Vangelo di Giovanni capitolo 21 dal versetto leggerò dal versetto 1 al versetto 19 da 1 a 19 Ok Sta scritto così Nella Sacra Scrittura Seguite il testo Una volta letto per favore Mantenete la vostra Bibbia aperta Perché è importante seguire sul testo l'esposizione Ok Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade E si manifestò in questa maniera Erano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea I figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli Simon Pietro disse loro Vado a pescare Essi gli dissero Veniamo anche noi con te Uscirono e salirono sulla barca E quella notte non presero nulla Quando già era mattina Quando già era mattina Gesù si presentò sulla riva I discepoli però non sapevano che era Gesù Allora Gesù disse loro Gli oli avete del pesce Gli risposero No Ed essi disse loro Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro E' il Signore Simon Pietro udito che era il Signore Si scinse la veste perché era nudo e si gettò in mare Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra Circa duecento cubiti Trascinando la rete con i pesci Appena scesero a terra Videro là della brace del pesce messovi su e del pane Gesù disse loro Portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro allora salì sulla barca E tirò a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci E benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò Gesù disse loro venite a fare colazione E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei sapendo che era il Signore Gesù venne prese il pane e lo diede loro e così anche il pesce Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli Dopo essere risuscitato dai morti Quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni Mi ami più di questi? E gli rispose Sì Signore Tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse Pasci miei agnelli Gli disse di nuovo una seconda volta Simone di Giovanni mi ami? E gli rispose Sì Signore Tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse Pastura le mie pecore Gli disse la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta mi vuoi bene E gli rispose Signore tu sai ogni cosa Tu conosci che ti voglio bene Gesù gli disse Pasci le mie pecore In verità in verità ti dico Che quando eri più giovane Ti cingevi da solo e andavi dove volevi Ma quando sarai vecchio Stenderai le tue mani e un altro ti cingerà E ti condurrà dove non vorresti Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio E dopo aver parlato così Gli disse Seguimi Amen Signore Padre Santo Istruisci la mia bocca Signore che sia proclamata la parola come tu vuoi e desideri Secondo la fedeltà del tuo insegnamento Apri i nostri cuori per riceverla Che possiamo amarla e praticarla Nel nome di Gesù Amen Amen In questo testo straordinario Fratelli, sorelle, amici Dove c'è Gesù che appare Per la terza volta ai suoi discepoli Sulla riva del mare della Galilea Ma io voglio parlare attraverso questo testo Di un uomo Un uomo che Forse tra tutti i personaggi della scrittura È quello più simile a me e a te L'Apostolo Pietro L'Apostolo Pietro è un emblema dell'umanità È un simbolo degli uomini Ci rappresenta e noi ci vediamo rappresentati in lui molto bene Perché lui è quest'uomo che è una specie di pendolo Che oscilla tra avanzamenti repentini e cadute Tra successi e fallimenti Tra alti e bassi Scalate e cadute L'Apostolo Pietro è un uomo Un tipo di uomo Quel tipo di uomo Come me, come te Contraddittorio Che a volte è capace Di una fede fortissima, radicale È lui che dichiara il Signore Tu sei il Cristo Il figlio del Dio vivente E a volte invece Compie delle cadute rovinose Come quando tradisce il Signore Gesù E lo rinnega per tre volte L'Apostolo Pietro ora È quel tipo di uomo Che ora è solido Come una roccia Ora è debole come la sabbia Che è portata via dal vento L'Apostolo Pietro è quel tipo di uomo Che è capace di affermazioni Di fede audaci Solide, straordinarie Rivestito di un coraggio impressionante Quando predica davanti ai giudei E a volte è usato da Satana Invece per tentare il Signore Gesù E allontanarsi dalla sua missione Quando il Signore Gesù dice Vai retro, vai indietro Satana Non mi tentare L'Apostolo Pietro è il tipo di uomo Che rappresenta perfettamente Se io mi guardo con onestà Davanti allo specchio Posso vedere l'Apostolo Pietro Posso vedere che lui mi rappresenta E sono molto simile a questo tipo di uomo Dice la scrittura Come arriviamo a questo episodio Dice la scrittura Che l'Apostolo Pietro Dopo aver rinnegato per tre volte Il Signore Gesù Nel cortile della casa Del sommo sacerdote Il venerdì della passione Lui cade in se stesso Il Signore aveva predetto Questa sua caduta Questo suo rinnegare tre volte Il Signore Quando lui aveva detto Ah, io sono per te Io verrò con te fino alla morte L'Apostolo Pietro aveva dato La sensazione di quell'uomo Che nel momento difficile Aveva detto Il Signore Gesù Sai come funziona? Funziona così Che io sono uno di quelli Che non ritratta la sua parola Io sono uno di quelli fedeli Sono uno di quelli duri Sono uno di quelli che riesce A arrivare fino in fondo Che dice una cosa E la mantiene fino alla fine Allora sai cosa c'è Gesù? Quando le cose si faranno difficili Per te tra un po' Conta su di me Io ci sono Sono quello che sarà al tuo fianco Non ti abbandonerò E il Signore Gesù Con una misericordia straordinaria In verità, in verità ti dico Che non canterai il gallo Prima che tu mi abbia rinnegato tre volte E l'Apostolo Pietro cade in questa sua contraddizione umana In questo suo peccato E casca in se stesso E fugge verso casa E si rintana in un'abitazione In quella notte terribile della storia Proprio quando il Signore Gesù veniva Perseguitato Frustato Veniva sputato Veniva oltraggiato Il figlio del Dio vivente Dagli uomini Che erano i suoi nemici E l'Apostolo Pietro è rintanato in una casa Impaurito Ha paura dei giudei Ha paura di essere riconosciuto come amico di Gesù Ha paura di essere riconosciuto come uno di loro Ha paura di morire Ha paura di essere arrestato, picchiato Dopo aver promesso che invece Sarebbe andato fino alla morte Per difendere Gesù E si nasconde Il giorno seguente Sabato Rimane nascosto Nella casa Mentre Gesù affronta Il giudizio Il venerdì Il giudizio di Pilato Mentre Gesù affronta Tutta la serie di incontri Con Erode Pilato Giudicato Frustato Flagellato Lui è nascosto In una casa Per la paura Il timore Il rimorso di aver rinnegato Gesù Passa il sabato Pietro ha paura Rinchiuso in casa Arriva la domenica Le donne La domenica mattina Vanno al sepolcro E la pietra Davanti al sepolcro È rotolata E il sepolcro aperto Gesù Il Cristo Che era lì dentro Sepolto È risuscitato Non c'è più E la pietra È stata aperta Da dentro Verso l'esterno Dall'interno Verso l'esterno Rotolata via E Gesù è risorto C'è un angelo Che è Gesù stesso Che dice Alle donne E cercate tra i morti Colui che è vivo Andate E dite Ai vostri fratelli Che il Signore Gesù Vi aspetta in Galilea Ma le parole sono Andate E dite Ai vostri fratelli E a Pietro Che Gesù Vi aspetta In Galilea Vi precederà In Galilea Perché Gesù Ha questo cura particolare Per l'Apostolo Pietro Perché Gesù Nel pronunciare Questa frase Andate Dite ai vostri fratelli Usa una parola Specifica Per Pietro E a Pietro Perché di tutti quelli Che erano lì I discepoli Che stavano aspettando La risurrezione di Gesù Lui cita Pietro Perché c'è questa cosa Particolare Perché Gesù Sapeva Che Pietro Si sentiva Così abbattuto Così fallito Così Sconfitto Per questo suo Tradimento Per questo suo peccato Che aveva già In mente L'idea Di desistere Di desistere Si era rintanato In una stanza E non aveva Più l'intenzione Di andare avanti Pietro Pietro aveva già Desistito Da Gesù Probabilmente Ma Gesù Non desiste Da Pietro Gesù Non desiste Da me Da te Gesù Non desiste Dal nostro Scoraggiamento Quando noi Cadiamo Quando noi A volte Rinneghiamo Addirittura Il Signore Gesù Con i nostri Peccati Gesù Non sta Desistendo Da te Noi siamo Scoraggiati Noi ci sentiamo Allontanati Da Gesù Noi a volte Abbiamo anche Timore A tornare Alla sua presenza Per un eventuale Tipo di Rimprovero Ma Gesù Non desiste Da noi E quello che Quello che Gesù Ci mette in evidenza In questo episodio È che Io cerco Di immaginare L'Apostolo Pietro Che riceve Questo messaggio Il messaggio Di Gesù Che gli dice Io ti aspetto In Galilea Io aspetto Voi E Pietro In Galilea E Come se Gesù Dicesse a Pietro C'è un messaggio Speciale Per te Tu che sei Caduto Tu che hai avuto Un fallimento Nella tua Storia Tu che hai avuto Una sofferenza Nella tua Storia Tu che hai dovuto Affrontare E fare i conti Con i tuoi errori Gesù sta Dicendo esattamente Questo C'è un messaggio Speciale Per te Come per Pietro C'è un messaggio Speciale Per ognuno Di noi Il messaggio Speciale Che Gesù Ti aspetta Sul mare Di Galilea Ti aspetta Per un incontro Con te E io cerco Di immaginare Pietro Che riceve Questo messaggio A Gerusalemme E le sorelle Che gli dicono Vai al mare Di Galilea Perché il Signore È risorto Il Signore È vivo E ha detto Che vi aspetta Là E Pietro C'è un messaggio Specifico Per te C'è una parola Specifica Perché il Signore Ha detto Che tu Non puoi mancare A questo incontro Che tu Lui vuole veramente Incontrare te Specificamente te E Pietro E Pietro Si mette In cammino E forse Io immagino Lui Percorrere Questi Quasi Cento Chilometri Da Gerusalemme Al mare della Galilea A piedi E lui Andando Al mare Di Galilea Io immagino Che lui Possa avere Un cuore Accelerato Un'ansia Di incontrare Il Signore Gesù Tenete presente Che è la prima Volta Che lui Incontrerà Il Signore Dopo questo Tradimento Dopo le sue Promesse Di fedeltà Di costanza Di perseveranza Di essere al suo Fianco Di essergli fedele E dopo averlo Rinnegato Dopo aver Bestemmiato In nome di Gesù Perché ha Negato Di conoscerlo Per tre volte Dopo aver Promesso Che sarebbe Andato Fino alla morte Con lui Ha negato Di conoscerlo Io non Non so Chi è Chi è questo Che dite Ma tu sei uno Di loro Tu sei Io non lo so Io non lo conosco Non lo conosco Dopo aver Camminato Per tre anni Insieme Con lui E si è stato Discepolato A tre anni Da Gesù Non lo conosco E questa Sua Questo suo Peccato Questa Sua negazione Di Gesù Alla luce Di tutte Le promesse Che avevano Fatto Esplode Come una Bomba atomica Nel cuore Di Pietro Come esplode Come una Bomba atomica Nel mio E nel tuo cuore Quando noi Tutte le volte Tutte le volte Che ho detto Non farò più Questo Riuscirò Questa volta Riuscirò Non farò più Ancora Ricado Nelle mie stesse cose Nei miei stessi peccati Nei miei stessi peccati Ancora Tu vieni E Pietro Andando lì Sul mare di Galilea Dove si svolge Quest'episodio Pietro sta arrivando Sta andando lì E immagino Questa Camminata Da Gerusalemme Al mar di Galilea Dove Gesù Gli ha dato appuntamento Che deve essere stata Molto tribolata Ogni passo Di questa camminata Probabilmente Come una martellata Nel cuore Forse Pietro Stava pensando Ora io Quando andrò là E mi incontrerò Con il Signore Gesù Lui mi brontolerà Lui mi riprenderà Duramente Forse Quello che noi Pensiamo Quando pecchiamo Quando ci allontaniamo Dal Signore Forse abbiamo Timore a volte Di andare a incontrarlo Di nuovo Perché Temiamo La sua Il suo giudizio Temiamo a volte La sua Di essere Brontolati Di essere castigati Ci vergogniamo D'avere Un'altra volta Fallito Nelle nostre promesse Di nostri propositi Quanti propositi Tu fai? Pensa un attimo A quanti propositi Hai fatto Di non commettere Più Quei peccato Di non scivolare Più su quella Buccia di banana Di non essere Più Di non dare più Adito Alle Alle Bucce di banana Che Satana Mette nella mia Nella tua vita Per farti scivolare Quella persona Quell'altra persona Quella Quella frase Quel parente Quella suocera Quell'amico Quel comportamento Quel lato di carattere Del marito Della moglie I problemi Quel problema Del figlio Della figlia L'amico L'amica Alla scuola Quante volte Tu hai detto Adesso No Adesso Non lo farò più E quante volte Invece Tu sei dovuto Tornare Signore E tu l'hai dovuto Fare Con umiltà Perché il Signore Ti sta aspettando Comunque E tu hai pensato Quante volte Hai pensato Forse di desistere Qualche volta Hai pensato Di dire Non fa più per me Questa storia Di peccare Chiedere perdono Peccare Chiedere perdono Peccare Non fa più per me Questa storia Del ministero Questa storia Della chiamata Non fa più per me Perché La mia vita Si ripete I miei peccati Si ripetono Quante volte Tu hai pensato Questa cosa E quante volte Tu hai avuto Timore Di tornare Dal Signore E forse L'apostolo Pietro Stava pensando Questo Aveva Quasi timore Di andare E qui Il testo Veniamo al nostro Testo Ci parla Di uno scenario Siamo sul lago Di Tiberiade Siamo sul mare Di Galilea E quando Pietro Arriva All'appuntamento Che Gesù Gli ha dato Contrare loro E lui Specificamente Perché Gesù Aveva di mira Una cosa Specifica La restata La restaurazione Di Pietro La restaurazione Mia E tua Gesù Ha nel cuore Che tu sia Restaurato Ripreso Per mano Ritirato Su Rimesso In piedi In piedi Questo Ha Gesù Come scopo Questo Ha nel cuore Perché tu sia Salvato E restaurato Nel ministero Nel servizio Nella vita di chiesa Nel dare frutti Restaurato 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 Nonostante i nostri Menti E quando Pietro Arriva All'appuntamento Si presentano Sul mare di Galilea Gesù non c'è Avete visto Nel testo All'inizio Gesù Non è presente Lui arriva Sulle rive Del lago Dove Gesù Gli ha detto Di andare Dove Le sorelle Hanno riferito Che Gesù L'avrebbe Aspettati Ma quando Lui arriva Quando loro Arrivano Gesù Non c'è Qual è la reazione Di Pietro In questo momento Vado a pescare Dice Pietro Vado a pescare Vado a pescare Pietro Stava già Pensando Di tornare Alla sua vecchia vita Alla sua vecchia occupazione Pietro Arriva Con il peso Il carico Delle Della sua colpa Arriva Con il carico Con l'angoscia Di Aver tradito Gesù Di essersi Di non aver mantenuto La sua promessa La sua parola E Arriva Non vede Gesù E' sopraffatto Da Uno scoraggiamento E lui Manifesta qui L'intenzione Di desistere Cioè vado a pescare Io riprendo La mia vecchia vita Vado a fare L'unica cosa Che so fare Qual è la cosa Che Pietro Sapeva fare Pescare Era la sua attività Era la sua professione Io mi rifugio Io mi rifugio in quello Che so fare bene Io mi rifugio Basta con questa storia Di vita spirituale Di E' troppo difficile E' troppo dura per me E' troppo Ho promesso Non ho mantenuto Sono deluso Con me stesso Sono deluso Da quello Che poteva essere Ho deluso Il Signore Non Io non Non fa più per me Questa storia Di servire in chiesa Non fa più per me Questa storia Di evangelizzare Non fa più per me Questa storia Di viaggiare Costantemente Non Non fa più per me Questa storia Di Essere un credente Fedele Di essere Di sforzarmi Per essere un credente Perché sento che A volte è uno sforzo Non fa più per me Non fa più per me Questa cosa Di Essere Discepolo Di quest'uomo Che è morto E ora dicono È risorto Non fa più per me Vado a pescare Non c'è più futuro per me Io chiudo qui Il sipario Di questa parentesi Di vita Lo chiudo qui Torno al mio passato Pietro manifesta L'intenzione Di tornare A quello che Che faceva Di tornare indietro Al suo passato È un uomo Lui è un uomo Molto intenso E tutto quello Che faceva Pietro Prima agiva E poi pensava A differenza di Giovanni Ma anche se era Un uomo istintivo Era un uomo intenso Che forse prima agiva E poi pensava Era comunque un leader Infatti vedete gli altri Cosa dicono Veniamo anche noi con te Lui era un leader Lui riusciva a catalizzare L'attenzione delle persone E gli altri dicevano Veniamo anche noi insieme a te Veniamo con te E vanno per la pesca Vanno per la pesca E pescarono E pescarono Gettano le reti A destra A destra A sinistra Dice il testo Uscirono Salirono sulla barca E quella notte Non presero nulla Non è da pesca Oggi in mare Sono andati Sono saliti Sulla barca E cosa forse Hanno pensato In questo momento Loro Non sappiamo Nemmeno più fare Quello che sapevamo fare Avevano dato Il passo Perché Gesù li ha chiamati Gesù dice Non siete voi Che avete scelto me Sono io che ho scelto voi Hanno dato il passo Verso La vita Con Cristo Gesù è morto Pietro lo tradisce Loro si impauriscono Lo Spirito Santo Deve ancora arrivare Vogliono vedere Stanno per vedere Gesù risorto Ma loro Vanno a rifare Quello che sapevano fare Ma non riescono Nemmeno Nella loro Vecchia Vita Non riescono Si trovano In quella specie Di interpezzo Dove Hanno lasciato Il loro passato Alle spalle Non vedono Ancora realizzato Il loro futuro Hanno paura Cercano Di tornare indietro Basta con questa storia Di discepolato Di evangelizzazione Di predicare il Vangelo Di Gesù Cristo Torniamo a fare Quello che sappiamo fare Non riescono più Non c'è pesca Non è da picca il mare Non riusciamo neppure a fare Non riusciamo neppure a fare più quello che sapevamo fare E stava quasi per diventare giorno Dice quando già era mattina Gesù si presenta sulla riva Fate attenzione Che si presenta sulla riva A 90 metri di distanza 200 cubiti Sono circa 90 metri Un campo da calcio Da una porta All'altra Loro sono in acqua E Gesù è sulla riva A 90 metri Di distanza E non riconoscono che è Gesù Non vedono che è Gesù Ok Quindi Loro Gesù Stanno per desistere Sta per diventare giorno E da lontano Dalla riva Non sapendo bene Chi è questa persona Là sulla spiaggia Come quando tu sei Avviato nelle tue cose Come quando tu sei avanti Con i tuoi progetti di vita Tu ti sei portato avanti Con le tue occupazioni E non dai frutti Non vedi frutti Non ci sono frutti A volte E non peschiamo Lavoriamo Facciamo le cose bene A volte Vediamo di fare tutto bene Non peschiamo E non vediamo Arrivare le reti Con i frutti Con i pesci E noi da lontano E loro vedono Gesù Sulla riva E Gesù Dalla riva Non sanno ancora che è lui E Gesù Dalla riva Chiede Urla Perché da 90 metri Non è che può dire Figlioli Gesù da lontano Quest'uomo Sulla riva Urla a loro Figlioli Avete del Pice Avete del Pice Che frase Straordinaria Che cosa straordinaria Che cosa straordinaria Gesù Dopo tutto questo tempo Avrebbe potuto Vedere loro Là In lontananza Sulla barca E avrebbe potuto Chiamarli In un altro modo Avrebbe potuto Chiamarli Oh Paurosi Paurosi Codardi Traditori A Pistoia si direbbe Forse una parola più Adeguata Si direbbe A Pistoia Gesù Dalla riva Parolai Parolaio Significa Uno che parla E non fa A Pistoia No Parolaio Dici 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 Ma non fai O non fai Quello che dici E Gesù La prima volta Che li ha visti Avrebbe potuto Chiamarli così Ma qual è la parola Che invece Gesù usa Figlioli Figlioli Che cosa Quanta misericordia Quanta grazia C'è In questa parola Di Gesù Puoi essere Lontano Quanto vuoi Tu puoi essere Occupato In tutto Quello Che vuoi Tu puoi Aver avuto Nel cuore Il sentimento Di lasciare Di desistere Ma questo Non impedisce Signore Gesù Di chiamarti Da lontano E dirti Figlio Figliolo Questa parola E straordinaria In bocca a Gesù Perché Gesù La usa solo Due volte Nel Nuovo Testamento La parola Figliolo E l'altra volta Oltre a questa Che Gesù Usa la parola Figliolo È con L'emorroissa Quella donna Che avendo una malattia Da tanti anni Eva sangue Continuamente E che nessun medico Era riuscita a guarire A curare E per una donna In quella situazione In quel contesto Giudaico Era una Obrobrio Era una vergogna Incredibile Questa sua malattia Di perdita di sangue Era una cosa Ignominiosa Ignominiosa Al punto Che questa persona Questa donna Si nasconde Non può stare in pubblico Non vuole essere vista Era una donna Che non si sentiva più Nessun tipo di dignità Era una donna Che aveva la sua Autostima Sotto i piedi Sotto i piedi Rigettata dalla società Rifiutata Giudicata Una persona Che si sentiva Completamente Condannata Maledetta E senza speranza E quando lei si avvicina Per toccare Il mantello di Gesù Con la fede Di essere curata Solo se avesse Toccato il suo mantello Gesù la chiama Dopo Figliola Vai Ti sono rimessi I tuoi peccati E Gesù ha l'amore Di chiamare Figli Figlio Esattamente A quelle persone A quegli uomini A quelle donne Che sono Che si sentono Falliti Che si sentono Rigettati Che si sentono Sperzi Che si sentono Inadeguati Che si sentono Incoerenti Che si sentono Incapaci Che hanno nel cuore Già l'idea Di lasciare Di desistere Di non vedo i frutti Non mi impegno più Signore Si rivolge A me A te In questi momenti Con Figlioli Figlio Figlio mio E lui dice Figlioli avete Qualcosa Da mangiare Perché Gesù Chiede se hanno Qualcosa da mangiare Non è così Gesù lo sa Che non hanno Pescato niente Gesù lo sa Che non hanno Dato frutti Perché senza Gesù Non c'è frutto Tu puoi tornare Alle tue Vecchie attività Tu puoi tornare Alle tue Migliori Capacità Abbiamo qui Il pastore Un teologo Laureati Tecnici Informatici Ingegneri La Poliana È una dentista Gente di diritto Filosofi Abbiamo gente Con capacità E anche quelli Che fanno Altri tipi Di capacità Abbiamo tutte persone Qua che sono Bravi Nelle loro occupazioni Molto bravi Molto esperti Molto bravi Tu puoi tornare A quello Che sai fare bene Sì Tu puoi dire Ah io ora Mi concentro Su quello Che sono Che puoi Non c'è frutto Alcuno Se non In mezzo Di Gesù Cristo Se non sei Se non Porti Gesù Cristo In quello Che fai Se non lasci Che il Signore Gesù Guidi Sì la tua Sì la tua Attività Sia il volante Della tua vita Tua attività Delle tue capacità Sia lui Che guida Che apre le porte Che dirige È lui Che fruttifica È lui Che porta frutti È lui Che permette Di fare Di fare Questa Pesca Straordinaria L'unico Che può Permetterci Di avere Questa Pesca Nella nostra vita Di frutti E frutti Abbondanti E Lui chiede Gesù Se hanno qualcosa Da mangiare Per collocarli È quello Che sta chiedendo A me A te Oggi Avete Qualcosa Da mangiare Sei andato A pescare Sei tornato A fare Le tue cose E Gesù Ti chiede Quando tu Pensi Di fare La tua vita Senza Gesù Quando tu Hai Tu metti Dei limiti Alla presenza Di Gesù Nella tua vita Quando tu dici Sì Ok Gesù In chiesa Durante la settimana No Ok Gesù Durante il corso Di discepolato Sì Nel mio posto Di lavoro Se io devo Rinunciare A dei soldi A essere perseguitato Per dare la testimonianza No Ok Gesù Con i miei amici Della chiesa Sì A scuola No In chiesa Con i fratelli E sorelle Sì In casa Nel mio matrimonio Con il mio marito La mia moglie Che non è credente No Quando tu metti Questi limiti Quando tu Pensi Di poter fare Questa cosa Come loro Che sono andati a pescare Gesù Allora ti fa Questa domanda Viene da te Con una parola Oggi Ora In questo momento E ti dice Hai qualcosa Da mangiare? Cioè Hai fruttificato? Ti sei sfamato? Ti sfama Quello che fai? Ti sazia? Ti sei saziato? Ti sazia questa relazione? Ti sazia questo modo di fare Con la tua suocera? Con il tuo suocero? Con il tuo fratello? Con la tua sorella? Ti sazia? Questo Questo rapporto malato Con il tuo amico O la tua amica? Ti sazia? Questa giustizia Che tu hai avuto Voluto applicare Al fratello di chiesa Alla sorella di chiesa? Ti ha saziato? Dov'hai Dov'hai pecche? Hai qualcosa da mangiare? Mi fai Hai Hai agito Secondo le tue competenze? Hai agito pensando Di essere come Pietro Quello che è Io Ti seguirò Ovunque Fino alla morte Sapete perché Pietro Aveva fatto sto ragionamento Di seguire Gesù Ovunque Fino alla morte Perché in fondo Lui pensava Di essere migliore Degli altri Lui stava dicendo A Gesù E non sono come questi Io ti seguirò Tu puntare su di me Quando arriva il momento Che stringe Io ho avuto così Tanta rivelazione Io ho avuto così Tanta conoscenza Di te Signore Che quando arriverà Il momento Ti dico Conta su di me Che sciocchi Gesù sta dicendo È molto Ricordioso Gesù Perché non gli dice Sciocco che sei Gli dice In verità In verità Ti dico Mi rinnegherai Tre volte Dirai di non Conoscermi Nel momento Nel momento Che le cose Stringono Quando le cose Stringono Tu non ci sarai Come stai Dicendo adesso Hai voluto Agire secondo Le tue competenze Secondo E Gesù dice Avete qualcosa Da mangiare? Sta dicendo Qual è il risultato? Mi fai Quale Quale Riusciti? Questa è la domanda Che Gesù sta facendo A così misericordia Che Gesù ti chiede Ci sei riuscito? Questo sta gridando Dalla riva A me A te Pensa Alle tue cose Da quello Che tu volevi Realizzare Pensa a quello Che tu hai voluto Fare Che il demonio Ti stia mettendo Nel cuore Di tornare Alle tue vecchie cose Da quello Che tu volevi fare Che tu vuoi realizzare Senza Gesù Ti dicono Basta E Gesù Ti incontra Nuovamente Per la sua misericordia Ti chiama Nuovamente Ti chiama Nuovamente Qui A questo mare Di Tiberiade Questo mare Di Galilea Qui Ti chiama A questo lago Di Tiberiade Questo Mare di Galilea Lui ti ci riporta Ti ci riporta Sempre E ti chiede Ci sei riuscito Senza di me Fammi vedere Dei frutti E allora Gesù Gli dice E loro rispondono Da lontano Gli risposero No Perlomeno Sono onesti Non potevano negare L'evidenza Non hanno preso niente Dopo una notte intera E guarda Chi era Esperto Esperto Pescatore Chi era Esperto Di quello Che stava Facendo In quel momento Questi erano Professionisti Questi vivevano Di pesca Questi erano Gente che Conoscevano La temperatura Dell'acqua L'ora giusta Il posto Giusto La tecnica Giusta Le maree Giuste Loro Sono stati chiamati Su quel lago Loro vivevano lì Quello era Il loro mare Era a casa Sua Conoscevano Quelle acque Come Nessuno Poteva Conoscere Quelle acque Immaginate La loro sorpresa Quando In un posto Che conoscevano Bene Qui si direbbe A Pistoia Erano Nei loro Cenci Avevano Tutto Dare Risultati Avevano Tutto Perché Questa Pesca Andasse Bene Avesse Successo Come Noi Quando pensiamo Di avere Tutti i requisiti Tutto a disposizione Tutto Che possiamo Dare successo Perché Non diamo Successo A volte Dimentichiamo La cosa Più importante La presenza Di Gesù Agire Secondo La sua Parola Una parola Chiave Dimentichiamo Una parola Chiave Ubbidienza E costo Da pagare Per seguire Gesù Vogliamo Saltare Questo passaggio E non Dice No Non abbiamo Preso Niente E Gesù Dice Gettate La rete Dal lato Destro Della Barca E troverete Adesso Sì Adesso Sì Gesù Parla Gesù Comanda Gesù Chiama Lì Intorno Alla Barca I 153 I più Grossi Di tutto Il lago Adesso Lui ha deciso Che fa vedere Che con lui Si può Qualunque cosa Qualsiasi cosa Qualsiasi frutto Qualsiasi risultato Qualsiasi pesca Adesso lui chiama I pesci Lì Alla barca E Prendono 153 Pesci E non Potevano Più Tirarla Su Il gran Numero Di pesci Non Riuscivano A tirare La rete A bordo Il gran Numero Di pesci Allora Il discepolo Che Gesù Amava Giovanni Disse a Pietro Disse a Pietro Sulla barca Allora lo riconoscono Allora vedono Chi è Quella persona Che ha detto Fai questo E questo Metti lì Adesso è l'ora Quell'uomo La ha scelto Il momento E il modo E adesso Sì È arrivata La pesca E quando Tu Hai tentato Decine di volte Con i tuoi mezzi Con le tue capacità Con la tua volontà Con i tuoi sforzi Di fare qualcosa E non sei riuscito E improvvisamente Per grazia di Dio Tu ti affidi Al Signore E le cose Accadono Ti ricordi Quando ti è successo Di sentire nel cuore Quella certezza Incredibile Incrollabile Che tu hai detto Ma questo è un miracolo Di Dio È Dio È il Signore Gesù Che ha fatto questo Solo Lui Perché io ho provato Mille volte Non ci sono riuscito Com'è possibile Che adesso Si è verificato questo È il Signore Gesù Il Signore è così Misericordioso Che ti permette Di sperimentare Il fallimento Ti permette Di sperimentare Che non riesci Perché poi Tu possa essere Sicuro Sicura Che è Lui Che ha fatto Che è Lui Che ha fatto Quello in cui Non sei riuscito tu Quello in cui Non sei riuscito tu E infatti Giovanni È il Signore E questa è la sua certezza Adesso Non c'era pesce Ora non si riesce A tirare su Nello stesso posto Dove pescavamo noi In un posto Che in un modo Che io so fare Che conosco Com'è possibile È il Signore È Gesù Quello lì sulla riva E allora Guardate cosa fa E Pietro Sulla barca Giovanni gli dice È Gesù È il Signore Gesù È Pietro Che era andato Lì A quell'incontro Per incontrare Gesù E Gesù Apparentemente Non c'era Noi nella nostra vita Quante volte Siamo andati A un incontro A un chiesa A un culto A da un'amica A da un amico A ascoltare una parola Alla televisione Quante volte Siamo andati Con Con aspettativa E siamo arrivati In un posto E Non c'è niente Qui Non c'è Mi hanno detto Che c'era Gesù Che c'era La presenza di Dio Io non ho sentito nulla Quante volte Quanta gente Entra Esce e viene Perché E pensa che ci sia E esce giù Che niente Apparentemente Gesù non c'è Gesù si fa trovare Quando e come dice lui Quando e come dice lui E quando e come dice lui E nel modo in cui dice lui Avvengono le cose Avvengono i risultati Avvengono i frutti Avviene la pesca Quando e come dice lui Gloria a Dio per questo Che non è Gloria a Dio Che non è attraverso di noi E allora Pietro Giovanni dice E il Signore Pietro Che era andato lì Con questa aspettativa Non aveva trovato il Signore E ha detto Sai che c'è Torno alla mia vecchia vita Voi a pescare Mi interessa Ora che sa che c'è Gesù Che fa Si scinge la veste E Pietro Che è l'uomo del fare Più che di riflettere Lui prima agiva E pensava Si butta in mare Si getta in mare Si butta in acqua Perché ora il suo cuore va a mille Il suo cuore È intrepidante Attesa Desiderio D'antare da Gesù Adesso Siete Ora non ha paura Di essere brontolato Di essere ripreso Ora lo vuole incontrare Lo vuole abbracciare Si butta in acqua 90 metri Comincia a nuotare E va a riva Ma gli altri discepoli Vengono con la barca Perché non erano Distanti da terra 200 cubiti Trascinando la rete Appena scesero Quando Pietro Arriva sulla riva Del lago di Galilea Che cosa vede? Un brascere Un pesce Un pane E solo due volte Nel nuovo testamento Appare questa parola Brascere Il brascere è qui In questo incontro Con Gesù E il brascere È nel cortile Della casa Del sommo sacerdote Dove Pietro Rinnega Tre volte Gesù È un brascere E la scrittura Ci ripropone La stessa parola Qui Adesso Che lo scenario È lo scenario Di Restaurazione Di Pietro Gesù è così misericordioso Che sta dicendo A me A te E sta dicendo A Pietro E a me A te Oggi Sta dicendo Una cosa semplice Nello stesso posto Dove io ti ho chiamato Nello stesso posto E contesto Dove tu mi hai tradito Mi hai rinnegato In questo stesso scenario Io ti restauro Ti metto in piedi E ti faccio dare frutti Nello stesso posto Il lago di Galilea Era il posto Dove Gesù Ha chiamato loro Ha chiamato Pietro Pietro era di Bezzaida Viveva qui Qui è stato chiamato Qui è cominciato Tutto Qui Gesù L'ha preso In forza Dell'elezione Qui si è data La chiamata Nella storia E c'è il richiamo Al bracere Perché È il contesto Lo scenario Dove Gesù Dove Pietro Aveva rinnegato Gesù E Gesù sta dicendo Pietro Figlio mio Tu che hai già nel cuore L'idea di desistere Di lasciare Io ti rimetto In piedi Nel contesto Nello scenario Dove tu Sei caduto Dove noi Cadiamo Nel posto Dove tu sei stato chiamato Nel posto Dove tu Cadi Nel posto Dove tu Hai fallito Nel posto Dove tu Ti sei scoraggiato Nel posto Dove tu pensi Hai pensato Di desistere Nel posto Nel contesto Dove tu Hai Non hai mantenuto Le promesse Che hai fatto Nel posto Dove tu Mille volte Ti sei impegnato E non hai mantenuto Nello stesso posto Nello stesso contesto In questo contesto Gesù Oggi Dice A me A te Come ha detto Pietro Io ti rimetto in piedi E ti faccio dare frutti Io Dai il mio cuore A me Fai le cose con me E io ti metto in piedi E ti faccio dare i frutti Che tu dovete Sei caputo Io ti rialzo Dove mi hai rinnegato Mi confesserai Dove sei stato confitto Nella nostra vita Ti farò vittorioso In questo stesso contesto E Gesù Chiede poi a Pietro Dopo aver fatto colazione insieme Tre volte Se lui lo ama Tre volte Il processo di restauzione di Gesù Prevede che Per ogni nostra caduta Noi siamo Confessiamo E siamo Portiamo alla luce Il nostro fallimento La nostra caduta E siamo restaurati Per ogni nostra caduta A volte noi pensiamo Di saltare questo passaggio A volte noi vogliamo La guarigione Senza il processo di guarigione A volte noi vogliamo La salvezza Senza la croce A volte noi vogliamo Passare Alle cose Successive Senza il percorso Per arrivarci A volte noi pensiamo Di poter Mettere un punto Sul nostro passato Pensiamo di poter Mettere Di fare una tabula rasa Di azzerare La nostra situazione Con Dio Senza portarla Alla luce Senza portarla A un processo Di restaurazione Spirituale Ma non funziona così Non funziona così Ogni volta Che Pietro Ha rinnegato Gesù chiede Mi ami E intanto la prima domanda Che lui fa La domanda Delle tre Lui dice Mi ami Più Di loro Perché Gesù Chiede a Pietro Mi ami Più Di loro E qui Gesù Conosce Il cuore Di Pietro E rivela Qual era stata La sua intenzione Che dicevamo Prima Quando Pietro Aveva detto Io ci sono Fino alla morte Io ti seguirò Ovunque Nel suo cuore C'era l'idea Che lui Era meglio Degli altri Era più avanti Degli altri Nel processo Spirituale Era migliore Degli altri Aveva più Rivelazione Degli altri Aveva più Comunione Degli altri Con il Signore Gesù Aveva più 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 degli altri E Signore Mi ami Più Degli altri Mi ami Più di loro Signore Lo sai che io ti amo Prenditi cura Delle mie pecore E la seconda volta La terza volta Il Signore chiede Ti amo Signore Mi ami Oh Signore Ti amo Tu sai tutte le cose Pietro si dispiace Di questa terza domanda Ma Lui si dispiace Lì da noia Che Gesù Glielo chieda Tre volte Hai già chiesto Ho detto Ti amo Perché Me lo chiedi tre volte Ma Gesù conosce I principi spirituali Che Lui ha stabilito Sulla nostra vita Ogni caduta Singola Vede un processo Di restaurazione Singolo Noi non possiamo Saltare Questo processo Non possiamo Azzerare E diciamo Si mette un punto E si riparte da qui Che è stato Io mi scordo Del mio passato I miei peccati Devono essere restaurati Una cosa È incontrare Gesù Cosa ci dice Quest'episodio Di fondo Ci dice una cosa Importante Per noi Ci dà un principio Importante Una cosa è Incontrare Gesù Una cosa Altra Diversa È essere Guariti Da Gesù Restaurati Da Gesù Sono due cose Diverse E per essere guariti Dobbiamo passare Attraverso questo Processo Di restaurazione E Gesù Mette Pietro Nella sua Situazione Dice Tu pensi ancora Questo Che sei migliore Degli altri Mi ami Mi ami Sì signore Ti amo E allora lì Gesù Lo Fino Fino al Punto Parla con Pietro Di rivelargli Quale sarà Il suo tipo Di morte E gli dice Dopo aver detto Quale morte Avrebbe verificato Dio Gli disse Seguimi 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 E dopo questo Processo Di restaurazione Allora sì Pietro diventa Un altro uomo Coraggioso Non ha più paura Della morte Non ha più paura Di nessuna conseguenza Predic Panta ai giudei Apertamente Pubblicamente Mentre prima Si era nascosto Si era rifugiato Nascosto come un ladro Non ha paura Del tipo di morte Che farà Diventa un gigante Dio Diventa un Predicatore Diventa un Conquistatore Di anime Un evangelizzatore Diventa un Grande uomo Di Dio Coerente Saldo Sicuro Del suo mandato Del suo ministero Che è questa differenza In cosa sta In cosa sta Questa differenza Di postura Di posizionamento Dell'apostolo Pietro E Gesù Lo ha Restaurato Non si è trattato Solo di un incontro Di una conoscenza Ma si è trattato Di una guarigione Da dentro Gesù Lo ha rinnovato Restaurato Nelle sue cadute Nel suo fallimento Nel suo peccato Allora lui può affrontare Tutto e tutti Può affrontare Qualsiasi situazione Possiamo affrontare Fratelli Qualunque cosa Nella vita Se ci esponiamo A questa guarigione Se Prendiamo l'impegno Di essere Trasparenti Sinceri Con il Signore Gesù Se mettiamo Le nostre cadute I nostri fallimenti Alla presenza Del Signore Gesù Se prendiamo Un impegno Con la parola Di Dio Se prendiamo Un impegno Con la preghiera Se prendiamo Un impegno Nel discepolato Nel camminare Accanto al Signore Se permettiamo Al Signore Di entrare Nelle nostre ferite Aprirle Le esponiamo A Lui Anche se doloroso Anche se fastidioso Anche se non lo vogliamo Saremo restaurati E la restaurazione È la base Del ministero È la base Dell'invio Del mandato Perché possiamo Produrre frutti Avere questa pesca Questa pesca Allora Fratelli e sorelle Se tu sei Bisognoso Di questa restaurazione Se tu hai Desiderio Di incontrare Il Signore Gesù In questo modo Attraverso La sua parola Lo studio Della parola E discepolato Di questo impegno Davanti al Signore Che ti ha chiamato Ancora una volta Sul lago di Galilea Ancora una volta Ti ha chiamato Per la sua misericordia A tornare E a stare E a stare Alla sua presenza Ed essere Ristabilito Ristabilito E che possiamo avere Questa pesca Se tu hai Questo desiderio Mettiamoci in piedi Per favore E chiedi al Signore Signore Abbi misericordia Di noi Signore Di questa Delle nostre cadute Dei nostri fallimenti Signore Che possiamo essere Restaurati Da te Dalla tua parola E un impegno serio Di discepolato Un impegno serio Signore Di preghiera Di comunione Con te Pagare il prezzo Il costo Dello studio Della tua parola Che è l'unica Che ci restaura Che ci guarisce Che apre Le nostre ferite Più profonde Le guarisce Le guarisce E ci dà Signore Questa Pesca I frutti Questa pesca Abbondante Che noi Non siamo capaci Di ottenere Con le nostre forze Con le nostre capacità Con le nostre tecniche Che usiamo sempre Ma affidandoci a te Signore Tu sei il Dio Della provvidenza Il Dio Dell'attificazione E noi Signore Possiamo vedere Operare Questo Nella nostra vita Affidandoci a te Te lo chiediamo Signore Nel nome Del Signore Gesù Cristo Nostro unico Salvatore Potenza Del suo sangue Amen Salvatore 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 Grazie.